Eder, Mech, Pallister Anuncia presso il comando provinciale dei carabinieri, a seguito della quale sono state attivate le ricerche. Il 55enne indossa degli occhiali da vista. Indossa dei pantaloni color khaki e una maglia a righe orizzontali. Di corporatura magra, è molto alto e ha una carnagione chiara. Chiunque abbia sue notizie è invitato a contattare al più presto i numeri di pronto intervento e delle forze dell'ordine. I parenti temono per la sua incolumità poiché, anche il giorno precedente, si era allontanato da casa per poi essere ritrovato in strada in stato confusionale. L'uomo, stando a quanto riferito dai familiari, è solito frequentare il piazzale Pistoia e gli esercizi commerciali della zona. I familiari sono molto preoccupati. I familiari sono molto preoccupati.